Buongiorno, sono Mazzetto Alessandro, lavoro per domani gli anni in questo assizio, trovati in fiera allo stand B42, padiglione 9, e quest'anno presentiamo un nuovo prodotto che è il fitoflorotante per le macchine contro un lumento. Questo dispositivo funziona solo ad aria compressa e permette una visione all'operatore molto più chiara del pezzo durante la lavorazione.